La sera avevo pericolosa perché giochiamo in casa di personaggi abbastanza pericolosi, grazie. E più avviso inaugura il suo opo di un personale. Grazie a tutti. 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 bella bella ragazzi come va come va stiamo carburando pulito vai vai che beviamo un giosso di pila per buttare giù la polvere ho subito guardate voi vuoi fare le 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 sono andato in dritto al bar questa scuola è sì o cazzo come un po' fiellina per portarci la sua energia per una canzone molto ma molto ma molto ma più che altro molto ragazzi dedicata a tutti quelli che hanno avuto delusioni amorose ragazzi guardate questa canzone si chiama bravi dell'Egea vai che beviva grazie a tutti 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 Ciao, come ti chiami? Carlotta. Fatto albina. Fatto albina. Fatto albina. Da dove vieni? Da Treviso. Arco cane. Ragazzi, un rossissimo plavio che va a Treviso! Che se è visime basime che va a Londra. A Londra. E' da cantare un posto dove mangiare. E' ciò. E ora va in giro e va dentro una steakhouse. E ora guarda il menù. E visime, tolna tagliata. E basime il fietto! Come ti chiami? Come ti chiami? Sto a muoio di tucceo. Vieni qua, vieni qua. Sei pronto? Sei pronto? Sono pronto. Vado a tenersi il cappino per il piso. E' il drop. Vai, vai, vai. Spolo per te. Minime e magnime che va a trovare lavoro a Scorsetta. Scorsetta. E però noi trova a casa vicino a Scorsetta. E c'è un po' forse. E ora è uno, insomma, a Minime e va a lavorare. Trova a casa a Peseia. E magnime ha cappello. Come ti chiami? Lorenzo. Grande Lorenzo, dove vieni? Da Casale Susi. E' un po' come chi ha già insomma. E' una cosa che è più difficile. E' una cosa che è più difficile. E' una cosa che è più difficile. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. E ora, questo simile basime, e macchina è in giro per Giazi. Ma è Giazi? Giazi? Ed e di da sotto un gabbian. Bici metà montare la macchina. E' un po' come chi mi piace! Teo! Sì! Come ti chiami? Davide! Davide è unito! Cani San! Vai da Cani San! Un rossissimo applauso a Davide! Cani San! Vai! Bisibè Basme che va dal tabacchiù Sì! Bisibè compra sigaretta Sì! Basme il sigaro E poi! Naturalmente difficilizzare ragazzi Fate un grossissimo applauso a Miss Martina Palo Si vedete Bisicino? dov'è stato un no-out? Un no-out! Un no-out! Un no-out! di avere un franchising di fisica e basi, mi dico, sei saperroiato, grazie, siamo emozionatissimi, spero la prossima volta, una bianca per me se c'è, esiste, sono nera, vabbè, potrei anche fare un'eccessione, vabbè, sei pronta, non dico neanche niente, vai, vai Martina, spogliate, quante, quante? Quella di squirto, dopo, quella dopo, queste anche richieste, vabbè, aspetta, aspetta, io favo prima una e dopo quella di squirto, perché quella, siamo oltre, che vuole far passare, e, esatto, le 11.35. Allora, chiese Fime e Fame che fa un incidente, Fime si spacca un braccio, e Fame è un Dèo! Bello, bello, è Decco! Aspetta, che questo è solo affidabile, vai, Martina, vai! Te l' vivo e te l'avo, se tu boccia che zunga i Pokémon. Te l' vivo a staca con Pikachu. E te l'esatto con il squirto! La formazione originale di Luma Terra, vado con un originario bravo, Rocky Shaw! Mi sparo, è bellissima! Vai, vai Gianca! Posso andare in doppietta anche a me? Vai, scordate! Allora, che se avvi a voi chi va a vedere la mostra di arte? Perché si è appassionati delle macchine d'epoca e offerte. Intellettuali, intellettuali. Avvi a vedere i quadri di Monè. E a voi Picasso! Dopo che si è, pittite e buttite chi va a fare i corsi in autostrada. Rappiti te core a 140 all'ora. E buttiti ad avanti! Sì! Sì! La cosa è mai avuta! Vai, Gianca! Mano, vada! Grande, grande, Gianca! Grazie! Uno sì, da un po' anche nel calo! Bisime e basime non plus ultra vede il coinvolgimento di noi che siamo qui sul palco ma anche di voi che siamo qua davanti. Quindi si crea questa sinergia, sì o no? Perché si crea questa sinergia? perché se è visime e basime che è che mangia a mona! E ora, visime che mangia a mona! E magne che a mona! E non è una buona che mangia! E non è una buona che mangia a mona! I want me! I am the ones I know! E ora, facciamo anche un avviso la prossima volta oltre a copertura che vuoi il pergoiato si, no? Cosa fai a mettere come pergoiato? Io? Una enera? Oppure una vigna? Mettiamo come una vigna pergoiato? Vado a fare prevedo! No, l'epgoiato è tramite la rampicante! E' tramite la rampicante! È pergoiato! Sì! E' tramite la rampicante! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti